Potremmo prendere la strada che Daomi sale verso Forte Kamino Dake. Peccato sia controllata dai mongoli. Ti servirà aiuto per cacciarli via. Conosco dei cacciatori accampati sul Monte Sago. Il capo si chiama Takeshi. È un tuo amico? No, ma mi darà ascolto e i suoi uomini sono ottimi arcieri. Mentre li raggiungi, io passerò dal castello di tuo zio. Incontra i nostri amici Aomi. Guidali e attacca il forte da sud. Io colpirò da nord a coi tuoi amici cacciatori. Pensi che funzionerà? Sì. Sta' attenta, Yuna. Anche tu. Sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Hai visto? Yuna ha degli amici interessanti Prepariamo l'attacco Da qui si riesce a vedere l'interno Dal crinale gli arcedi vedono tutto il cortile Tanti bersagli facili Concentriamo le nostre forze Su quel tetto avremo tutto sotto controllo Sembra di sentire Yuna Mi hai istruito bene Voi con me Tutti gli altri sul crinale Se i nemici mi scoprono, eliminateli Va bene, buona fortuna Tutti i nemici mi scoprono, eliminateli 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 No! Non il vero O no! No, 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 no. Avranno posto resistenza. Uccidiamo tutti i bastardi al forte. Altra pattuglia. Tenderemo un agguato al loro passaggio. Nascosti. Avete sentito? Svelti. Scoccate al mio segnale. Uccidete lì! Forza, andiamo. Acciugiamo il punto. So che nell'esercito di Lord Shimura ci sono samurai dello shogun. Perché non siete a guidarli? Io e Lord Shimura usiamo strategie diverse contro i mongosh. Siete solo, quindi? Non avete autorità su questo forte? Il Gito ha il suo castello. Non avrà bisogno del forte fino alla primavera. Prima di allora ce ne saremo a... Veniva dalla porta sotto. Controlliamo cosa succede. Una, è stata qui. Dobbiamo arrivare lì. Diamo un'occhiata al ponte. Gran parte dei mongoli è andata lì. È la nostra occasione. Se attacchiamo sul ponte dovremo liberarci subito di quello huaccia. Riuscireste a passare col rampino sotto il ponte per raggiungere furtivamente lo huaccia? Potrei usare il rampino con l'albero e scalare poi la rupe dall'altro lato. Se il nemico vi individua, ce ne occuperemo noi. Un attacco diretto o furtivo. Entrambi rischiosi. In ogni caso, siamo con voi, Lord Sakai. Tenetevi pronti. Sternos... Frannous lascia. Eccolo a perеля bambino brevi. Opponì rischio? C'era quest'app Просто, tranquillo. Forza efficaccia anche lunge. Ci si truino. Cap. Il geeko è sad. Oh Oh Did it be switch a man Arrivano i rinforzi! Arrivano i rinforzi! Not your hearts! Ushur! Arrivano! Full that in sense! Foto Yakuza! Vediamo gli altri alla porta! Yarikawa! Yarikawa! Eccoli! Hanno portato degli amici da Yarikawa! Sapevo che eravate all'ospetto! Si devevano molto più alto! Non fermarti! Finalmente sei qui! Non troppo vicino, o mi vedono! Sta' attento, Kenji! Ci provo! Via! Dovevi aspettare che aprissimo la porta! Un'idea di un attacco! Quanti Mongoli restano? Solo questi! Allora, finiamoli! Per lo spettro! Per lo spettro! Per lo spettro! Lo spettro! Lo sacchai! Appena in tempo! Per il mar, signore! Vivo! 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 Vivo a te nostro, signore! State tutti bene? Benissimo! Tutto sommato, sì! Che piacere, Lord Sakai. Fa così freddo ovunque, quassù. Ti ci abituerai. Prendete le provviste e preparatevi a partire per Giogaku. Così, tu e Takeshi? Appartiene al passato. Sono più che semplici cacciatori, vero? Dipende dalla prospettiva. Ho detto loro che possono restare e difendere il passo. Ma non voglio banditi che importunano gente innocente in fuga dai mongoli. Sa cosa gli farei se ci provassero. Credo morisse dalla voglia di vederti. Mi ha vista. Possiamo andare. Portiamo tutti a Giogaku. Lì pianificheremo il nostro attacco. È ora di uccidere il Khan. Allora. 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 Sì